Ciao da Federico, oggi sono qui per presentarvi la mia recensione della One Sport OT01, un nuovo modello che va a arricchire la gamma di prodotti di questo marchio, che quest'anno ci hanno stupito un po' per l'elevatissimo rapporto qualità-prezzo. Questa è una cargo e-bike, progettata per trasportare, come lo dice la parola, dei carichi, ma volendo anche due bambini. C'è l'accessorio apposito da installare su questo bel portapacchi, bello ampio, con una dimensione di circa 70 cm x 20 cm, tranquillamente a scuola ogni giorno. Oppure anche inserire, sempre in dotazione, un portapacchi bello ampio al posteriore per trasportare delle cassette, dei pacchi, oggetti anche voluminosi. In dotazione viene dato anche un bel portapacchi, qui all'anteriore, di 30 cm x 25 cm, per un'altezza di 11 cm, che ritengo veramente comodo. Cosa che ho notato subito è l'ingresso agevolato, quindi il palo molto basso da terra, che anche per persone basse, può essere scavalcato facilmente. Infatti è di soli 29 cm, cosa da non sottovalutare. Generalmente sulle city bike, da donna, col palo AV, abbiamo uno scavallo a 42 cm. Quindi c'è stata anche una bella attenzione al dettaglio. Sella bella comoda, ammortizzata, una posizione in sella, anche per la mia altezza di 1,88 m, che riesco a trovare veramente ottimale. Anche per la mia corporatura, grazie a un manubrio di tipo BMX, moto da cross, è la possibilità di andare a regolare anche l'inclinazione. Quindi questa è una cosa che mi è molto piaciuta. Un colore azzurro, unica colorazione per quanto riguarda questo modello. Ma prima di andarlo a scoprire in tutti i suoi componenti e nel dettaglio, come questa batteria che è stata collocata intelligentemente, qui nella parte bassa, comunque per abbassare il baricentro e dare una migliore guidabilità, andiamo a scoprirla su strada e poi torniamo qui per scoprirla nel dettaglio. Sono in livello di assistenza zero, quindi senza l'aiuto da parte del motore. Servono due, tre, quattro, cinque belle pedalate per riuscire a spostarla. Si sente il suo peso, però gli organi atti e lo scorrimento sono di ottima qualità. Infatti anche andando a rilasciare i pedali non ho nessuna interferenza, nessuna resistenza, nemmeno da parte del motore. Prima di perdere velocità ci si metterà del tempo. Grazie a delle ruote fatte sì, ma con una larghezza di 2,6 pollici, che quindi sono anche belle scorrevoli. Vado ad inserire primo livello di assistenza, provo una partenza da fermo, come fossi fermo a uno stop. Vediamo come si comporta immediatamente ho potenza da parte del motore. Col primo livello di assistenza, regolato in base alla velocità, si possono raggiungere con l'assistenza del motore gli undici chilometri orari, quindi una pedalata lenta. Secondo, inserisco il secondo, sente già una grande spinta da parte del motore che mi porta ai 18 chilometri orari. Inserisco il terzo livello di assistenza, ho subito le gambe che vanno a vuoto. Immagino un po' quando avrò del carico, riuscirò a spostarlo senza nessun problema. Ma anche quando vado a rilasciare i pedali, ho ancora spinta da parte del motore. La velocità massima è dei 25 chilometri orari, non si può sbloccare. Non è presente un acceleratore, ma comunque la trovo non solo maneggevole, ma anche una bella scorrevolezza e non si fa per niente fatica. Ideale come bicicargo. Bella guida e anche delle belle geometrie. Si sta belli comodi anche in sella. Freni e disco con impianto idraulico. Sono adeguati alla tipologia di questo metodo. Adesso vado a provare una bella frenata ai 30 chilometri orari con i miei 100 chilogrammi di peso. Se arriva al bloccaggio ci si ferma veramente in un attimo. Ma prova ben più ardua è quella di vedere se questo motore con singolo rapporto riesce a fare questa bella salita. Vado a fermarmi, partenza in salita. Non sto applicando nessuna forza nei pedali, ma sto semplicemente girandoli e anche in questa bella salita, wow, pedalata a vuoto. Quindi il motore veramente è molto potente e ci permette tranquillamente di fare anche delle salite che troviamo in città. Quindi nessuna paura, anche singolo rapporto su questa tipologia di mezzo e per come è stata progettata la spinta del motore, ci consentirà anche a pieno carico di salire senza una goccia di sudore. Su sterrato come si comporta? Sono in livello di assistenza 2, 18 chilometri orari. Sono in una strada in buone condizioni, ma che comunque presenta alcuni avvallamenti, alcune buche sassi. E sinceramente c'è solo la forcella anteriore ammortizzata, ma grazie a una sella bella comoda, ammortizzata, qui al posteriore e delle ruote comunque fatte con una bella quantità d'aria, si può andare tranquillamente anche in strade bianche, in condizioni accettabili senza stare scomodi. Ruote da 20 pollici con una larghezza di 2,6 pollici, una tassellatura per tutti i terreni, cosa che la rende molto scorrevole e quindi dà anche un'ottima maneggevolezza, guidabilità su strada. Un motore a mozzo da 500 watt con una bella spinta che arriva fino ai 62 newton metro di coppia. Una batteria veramente enorme da 1296 wattora. Infatti è una batteria da 48 volte per 27 ampere ora. Una spinta del motore che è stata progettata un po' come uno scooter. Se vado a inserire il primo livello di assistenza ho il cavalletto centrale. Se vado a muovere leggermente il pedale ho immediatamente assistenza da parte del motore e come potete vedere magari se vado a inserire anche il livello di assistenza 3 dopo un piccolo giro ho subito assistenza. E comunque anche quando vado a rilasciare i pedali mi resta ancora un po' di spinta da parte del motore perché hanno voluto creare un e-bike che abbia più un utilizzo da trasporto che una vera bici. Quindi sì a pedalata assistita, sì perfettamente legale però da utilizzare un po' come un motorino con una pedalata molto leggera già dal primo livello di assistenza. Pelaio in alluminio 60-61 quindi resistente agli urti e alla corrosione con un carico massimo dei 150 kg un impianto frenante con dischi da 160 mm di tipo idraulico questo anche con peso a bordo se abbiamo i due bambini dietro di noi avremo comunque la massima efficienza perché l'impianto idraulico è proprio progettato per dare una grande potenza frenante e anche modulabile inoltre c'è la possibilità della regolazione micrometrica per adattarla anche alla nostra sensibilità di frenata un indice di impermeabilità IPX5 questo ci consente di utilizzarla sotto la pioggia ma non di lasciarla sotto la pioggia due chiavi in dotazione per andare a rimuovere la batteria veramente enorme una bella maniglia un piccolo cavo da sconnettere ed ecco qui per poterla ricaricare anche in casa pur avendo una batteria così grande l'autonomia si ferma all'incirca tra gli 80 e i 100 km perché l'assistenza da parte del motore è veramente invasiva è più uno scooter che una e-bike cosa che mi aveva perplesso può essere anche un punto di vantaggio l'unico rapporto perché non prevede manutenzione un display LCD a colori nella parte alta all'icona del bluetooth che è attivo per connetterla all'app 5 tacche che vanno a indicare la carica della batteria ogni tacca un 20% livello di assistenza inserito chilometri parziali voltaggio della batteria tempo da quando siamo partiti chilometri totali la velocità alla quale stiamo andando tre tasti fisici per andare a comandare il tutto tasto accensione spegnimento in alto con la pressione prolungata del tasto più si va a accendere fanale anteriore e posteriore appare l'icona tenendo premuto il tasto meno andremo ad attivare la funzione walking dopo averlo rilasciato continuerà a funzionare quindi avremo attiva la funzione walking fino ai 6 km orari per andare a disattivarla basta andare a premere una delle due leve freno un campanello bello rumonoso delle manopole di ottima qualità con una gomma che permette di non andare a scivolare anche quando abbiamo le mani sudate leve freno in alluminio con sensore power off una vite per andare a fare una regolazione millimetrica in base alla nostra sensibilità un manubrio da BMX moto da cross diciamo per avere un'ottima posizione eretta in sella e la possibilità anche di andare a regolare l'inclinazione del manubrio un cestino anteriore con un carico massimo fino ai 13 kg e un fanale a doppio led bello potente con un catarifrangente al di sotto parafanghi in metallo perfettamente ancorati e una forcella ammortizzata che non è possibile né bloccare né regolarne il precarico con un'escursione all'incirca degli 8 cm troviamo la guarnitura anteriore con una protezione perché non va ad uscire la catena dei pedali in alluminio con il classico catarifrangente un cavalletto centrale bello solido che supporta tutto il peso delle bike unico rapporto single speed eccolo qui per mantenere la catena in tensione e che col tempo basterà andare a regolare questa vite parafango anche al posteriore ruote da 20 pollici con dei cerchi a raggi e qui invece troviamo il motore posteriore senza indicazione di potenza catarifrangente per essere visibili anche lateralmente e questa struttura veramente molto imponente che va a supportare un carico massimo completo della bici dei 150 kg fanale integrato nel portapacchi posteriore con luce di stop quando andiamo a premere una delle due leve freno lateralmente invece ecco qui il pacco batteria da 1296 wattora un tasto che se andiamo a premerlo con dei led ci va a indicare la carica della batteria una maniglia per quando andiamo a trasportarla estrarla un pulsante di accensione e spegnimento basterà andare a inserire le due chiavi non abbiate paura che sono tutte e due uguali anche se andiamo a intercambiarle girarle e quindi andare a estrarre la batteria prima di estrarla si va a staccare il cavo qui invece troviamo un gommino che va a proteggere il punto di ricarica un passaggio dei cavi parziale all'interno del telaio e un telaio che è veramente ben rifinito di una colorazione azzurra anche con dei bei riflessi quando c'è la luce del sole le ruote da 2,6 pollici di larghezza presentano una tassellatura per tutti i terreni anche per lo sterrato un portapacchi posteriore con delle piastre già preforate per andare a installare gli accessori che si possono acquistare a parte una sella ergonomica con una grande imbottitura si sta veramente comodi ed è anche ammortizzata un e-bike che mi ha soddisfatto per la guida perché abbiamo una bella posizione comoda in sella grazie a queste regolazioni del manubrio inoltre grazie a queste ruote che comunque sono belle snelle ci consentono sì di attutire l'asperità del terreno grazie anche alla forcella ammortizzata ma anche di renderla bella maneggevole anche se abbiamo del carico a bordo riusciremo tranquillamente a divincolarci anche nel traffico nel complesso una cargo bike che mi ha soddisfatto singolo rapporto che sicuramente non prevede manutenzione è utile se abbiamo una città dove abbiamo le strade piane o leggere salite non avremo nessun problema chiaramente non è stata fatta per andare a affrontare salite impegnative non avendo il cambio questo è un po' il limite e nell'insieme mi ha soddisfatto a tutto il necessario per circolare e trasportare su strada carichi anche molto importanti arriva da un magazzino europeo preassemblata al 90% basterà solo installare la ruota anteriore montare il cestino 4 viti per andare a installare il manubrio e inserire il tubo sella il gioco è fatto arriva all'incirca in 3-7 giorni dal momento dell'acquisto senza spese di spedizione che sono incluse nemmeno orneri doganali non arriva nient'altro da pagare come sempre vi lascio il link e il codice sconto in descrizione spero che questa recensione vi sia stata utile alla prossima ciao da Federico ciao